Bruno Gröning, io voglio solamente aiutare e guarire. La vita di Bruno Gröning per bambini, giovani e adulti. Capitolo terzo. Impasto al pubblico. Dieta Hulsman aveva nove anni. Soffriva di distrofia muscolare, non poteva muoversi e giaceva da parecchie settimane a letto. Nessuno dei medici e professori chiamati dai suoi genitori furono in grado di aiutarlo. Il 15 marzo Bruno Gröning visitò la famiglia Hulsman e parlò con il ragazzo. Dopodiché questi potevano alzarsi, camminare e persino salire le scale. I genitori erano felicissimi e il padre raccontò a tutti dell'avvenuta guarigione del figlio. In tal modo Bruno Gröning diventò famoso in tutta Hereford. Ogni giorno arrivavano sempre più persone in cerca di guarigione. Sempre più gente veniva a conoscenza del meraviglioso avvenimento. Avvennero altre guarigioni. E non passò molto tempo che il nome di Gröning fu sulla bocca di tutti. I giornali scrissero degli articoli in cui lo chiamavano il dottore dei miracoli. E parlavano di quello straordinario uomo che incredibilmente poteva far scomparire le malattie. Ben presto tutta la Germania ne parlò. Migliaia di persone affluirono ad Hereford e una marea di gente assediò la casa della famiglia Hulsman nella Wilhelmsplatz. La completa disperazione umana In un opuscolo del tempo il filosofo dottor Phil A. Cowell descrisse in modo eloquente la situazione in casa Hulsman. Gli ammalati e gli infermi arrivarono a Migliaia nella piccola cittadina della Vestfalia che dentro le sue mura ospitò il medico dei miracoli. Con autobus, camion, automobili, con il treno e a piedi, con carri trainati da cavalli e biciclette su carretti, su sedie e rotelle, in autoambulanza. Giorno e notte arrivarono masse di persone ad Hereford, alla Wilhelmsplatz. Una piazza dominata da una chiesa protestante, alla casa numero 7, dove Bruno Gröning era ospite presso i genitori del ragazzo che aveva guarito. La miseria umana che qui si manifestava era impressionante ed infinita. Nei giardini e nei parchi circostanti sedevano ammalati. C'erano sedie a sdraio, barelle e lettighe. Gli ammalati attendevano giorno e notte per essere guariti. Nella notte tra il 16 e il 17 giugno del 1949, la polizia avrebbe voluto alloggiare in alcuni padiglioni circa una cinquantina di mamme con i bambini piccoli. A nulla valsero i tentativi di persuasione, le persone rimasero ferme come rocce, non mossero un passo e nemmeno la pioggia le fece spostare dai loro posti. Accorsero da tutte le parti della Germania giovanotti e vecchi, donne, ragazze e bambini di qualsiasi posizione ecceto sociale, americani, inglesi, belgi, svizzeri, svedesi, ungheresi, polacchi e perfino zingari che, in seguito alla guarigione di un loro bambino muto, si radunarono qui a schiere. Paralitici, ciechi e sordi, una adunanza di miseria e di sofferenza umana, povera gente che sedeva in lussuose automobili o che si muoveva faticosamente sulle proprie stampelle. Gente senza speranza, piena di fiducia, stanca e disperata, per queste centinaia e migliaia di persone esisteva solo un desiderio, quello di trovare la guarigione. Nessuno si chiedeva se quello che succedeva in quel luogo fosse autorizzato da un qualche ufficio, da un'autorità pubblica o amministrativa o da qualche ministero, se la scienza fosse favorevole o contraria o se colui che li avrebbe guariti fosse un messia o un esegeta. Quello che volevano era essere guariti dai loro tormenti, pene e sofferenze umane, desideravano ritornare degli uomini dinamici, attivi e felici, volevano recuperare di nuovo la loro salute. Bruno Gröning al balcone Tuttavia, in questo periodo Bruno Gröning non era sempre a Hereford, spesso si recava in altre città o villaggi da persone che lo pregavano di essere aiutati. Comunque i bisognosi di aiuto lo aspettavano a Hereford a volte anche per giorni interi e continuavano ad aumentare sempre di più, erano centinaia e anche migliaia. Quando poi ritornava, gli astanti lo assalivano. Una volta un giornalista descrisse così la situazione. Ore 19 e 40 Gröning arriva ed entra. La gente si stringe intorno a lui, cerca di stringergli la mano o almeno di toccargli i vestiti. Con difficoltà arriva nel corridoio. Ore 23 Gröning compare al balcone. La massa di gente, che nel frattempo è aumentata e ha raggiunto un numero tra le 600 e le 800 persone, pende come incantata dalle sue parole. Gröning finisce tranquillamente di fumare la sua sigaretta. Poi parla con tono molto forte, ma senza enfasi, e dice Miei cari cercatori d'aiuto, Le vostre preghiere e suppliche al Signore Dio non sono state vane. Il Sindaco mi ha rilasciato oggi in via eccezionale il permesso di guarire. Richiamo l'attenzione di voi tutti, facendovi notare che questa guarigione sarà avvantaggio solamente di coloro che portano in sé la fede per il nostro Signore Dio, o che sono pronti ad accettare questo credo. Vi dichiaro così, in nome di Dio, tutti sani. Vi faccio notare che alcuni di voi sentiranno ancora dei lievi dolori. Questi sono dolori di regolazione, reggelung. Che ben presto scompariranno, se voi continuerete a credere saldamente alla guarigione. So anche che, in questo preciso momento, tante altre persone che si trovano in altri luoghi hanno ricevuto ugualmente la guarigione. Chi si trova qui per aiutare qualche familiare o qualche persona cara può ritornare a casa consolato. Le guarigioni avvengono anche senza la mia presenza fisica. Il mio desiderio, dunque, è quello di aiutare tutti gli uomini a riacquistare la propria salute. Non chiedo di che religione siano, né la loro nazionalità. Dopo una pausa di circa un secondo, continuò. Circa una ventina di persone alzarono la mano. Lo sguardo di Gröning avvolse la folla, poi disse «Ora vi chiedo ancora una volta, chi sente ancora dolori?» Un giovane uomo alzò la mano. Gröning continuò «Ma questo non è un vero e proprio dolore. No, non abbia timori. Ho già parlato con lei. La sua parte dolorante è già stata guarita». Nel frattempo si sparse un mormorio tra la folla. Un continuo stendersi e stiracchiarsi. «Davvero, io sono guarito. Grazie a Dio, la mia gamba diventa poco a poco più sciolta. Io posso nuovamente vedere!» E si sentono altre esclamazioni simili. «Ma sono pochi quelli che parlano. Questo mi sorprende molto». Gröning continua il suo discorso. Ora vi prego di non brontolare e di non lamentarvi perché chi dubita della sua guarigione dubita del nostro Signore e Dio. Non rivolgete a me la vostra gratitudine per questa guarigione. Il vostro ringraziamento vada solamente a Dio. Io non pretendo alcuna ricompensa. Quello che però mi aspetto da voi è che pregate Dio per tutta la vita. La vita senza Dio non è vita. Un uomo ha il valore e il diritto di essere considerato tale se crede in Dio. Il miracolo di Herford Ma Bruno Gröning ad Herford non parlò alla gente solamente dal balcone. Si preoccupò anche delle singole persone e si prese cura dei più poveri tra i poveri. In un opuscolo di quel tempo troviamo il seguente passaggio. Tra i bisognosi d'aiuto che tra la notte del 17 e il 18 giugno 1949 attendevano nella casa della Willenplatz al numero 7 si trovavano anche degli uomini e delle donne inglesi che avevano sentito parlare della fama di Bruno Gröning. Era presente anche un medico tedesco con tre dei suoi pazienti. Un giovane uomo affetto da tubercolosi polmonare ed ossea ed irrigidimento della gamba sinistra. Un ragazzino con ambedue le gambe paralizzate ed una ragazzina con cronici mal di testa di tipo nervoso. Gröning non fece nessuna diagnosi. Al giovane ammalato di TBC disse di porre particolare attenzione alle ossa della sua gamba sinistra. Che cosa avverte ora? Una corrente calda percorre il mio corpo. E adesso? Sento un formicolio nella gamba sinistra. Ora alzi la sua gamba verso l'alto così come faccio io. Gröning gli fece vedere come alzando la sua gamba piegata fino alla pancia. Il giovanotto era titubante. Lei lo può fare esattamente come me. Senza apparente sforzo il giovane portò la gamba che prima era irrigidita nella posizione indicata. Incredulo guardò alternativamente prima la sua gamba e poi il medico. La gamba ed il medico. Com'è possibile? Io posso muovere la mia gamba. Lei guarirà. Sarà però un processo lento per lei. Mi scriva. È rivolto al medico. Mi tenga informato. Il ragazzino con le gambe paralizzate sedeva con le sue due stampelle vicino alla madre. Ragazzo mio alzati. La madre lo interruppe. Ma non si può alzare. Non vede che è paralizzato? Gröning girò la testa. Questo non lo deve dire. Quasi l'aggredì. Così lei trattiene la malattia di suo figlio. Ragazzo mio alzati. Ci riuscirai. Sul viso smunto del ragazzo comparve un rossore. Le labbra tremarono e lacrime scivolarono sul suo volto. Le numerose persone presenti nella stanza guardarono commosse come il ragazzo si alzò dalla sedia e rimase in piedi. Solo. Senza l'aiuto delle sue stampelle. E ora vieni qui da me. Con passi incerti si avvicinò a Gröning che gli tese la mano e lo guardò a lungo negli occhi. Amorevolmente gli accarezzò il capo e lo rimandò indietro dalla madre. Continua lentamente ad esercitarti. Non pretendere troppo. Le tue gambe sono ancora troppo deboli. Per ritornare a casa usa ancora le stampelle ma presto le potrai buttare via. Gli occhi felici di un bambino e di una madre sono il suo ringraziamento. La ragazza con il mal di testa cronico di origine nervosa era già guarita ancora prima che Gröning le rivolgesse la parola. No. Non sentiva proprio alcun dolore. Vuole riavere i suoi dolori? No, no per l'amor di Dio no le uscì dalle labbra. Ed il medico osservò senza parole questi avvenimenti. Porse la mano a Gröning. Signor Gröning io sono a sua completa disposizione. Mi riconosco un suo seguace. Una guarigione dopo l'altra. Un reporter descrive la situazione del giugno 1949 ad Hereford così. Lo scenario era incredibilmente miserabile. Erano innumerevoli paralitici sulle loro sedie a rotelle. Altri venivano sorretti e trasportati dai loro familiari. C'erano ciechi, sordomuti, mamme con figli handicappati e paralizzati, vecchie madri e giovani uomini facevano ressa e sospiravano. Circa un centinaio di automobili, camion e autobus erano parcheggiati sulla piazza e tutti provenivano da lontano. Lei crede che guarirà? chiedevo io agli infermi. Loro annuivano con il capo. Doveva essere presente qui ieri, mi rispose uno. Il signor Gröning era a Firsen, nella renana e qui nel cortile si alzarono in piedi cinque paralitici e se ne andarono a casa guariti. Si tratta di guarigioni a distanza. Il cortile li ha guariti, gli altri infermi confermarono. Continuai a camminare in mezzo alla folla, stenografando i loro meravigliosi racconti. Sarebbero stati sufficienti per scrivere un libro. Mentre mi accendeva una sigaretta, un giovanotto accanto a me mi disse La prego, me ne venda una. Indossava un uniforme a gonnellino, sembrava un rimpatriato dalla Russia. Gli diedi la sigaretta, l'accesa e disse in tono un po' arrogante Vede, ora posso fare di nuovo tutto da solo. Nel mentre fece un movimento con il braccio destro muovendo tutte le dita della mano e lo stesso fece con la sua gamba destra. Anche lei è stato guarito dal signor Gröning? Domandai. Sì, in Russia rimasi paralizzato nella parte destra del corpo. Il signor Gröning mi guardò ed ora sono completamente guarito, non riesco ancora a crederci. E Felice dimenava gambe e braccia. Poi mi diressi verso un gruppetto che si era radunato intorno ad una donna dai capelli grigi. Era sulla quarantina. Naturalmente, udì dire dalla donna, sono stata guarita anch'io dal signor Gröning. Avevo delle grandi ulcere allo stomaco, dimagrivo continuamente e non potevo più dormire a causa dei dolori. Andavo da Gröning in dodici. Lui mi guardò e fu come se le mie ulcere cadessero come pietre al suolo. Da allora non ho più dolori, sto ingrassando e le radiografie che ho fatto dimostrano la completa scomparsa delle ulcere. Mi sono messa a completa disposizione per i controlli della commissione medica. Le posso ben dire come rimasero sbalorditi. La donna poi continuò ma questo è ancora niente. La settimana scorsa si trovava qui un cieco, aspettò alcuni giorni ed alcune notti. Siccome io vengo spesso qui mi colpì, mi faceva pena e lo invitai a mangiare. No, rispose lui rifiutando, non posso perdere il momento in cui il signor Gröning si affaccia al balcone. Allora gli portai dei panini e gli dissi che mi sarei preoccupata che venisse accompagnato da qualcuno alla stazione. Non ho bisogno di nessuno poiché potrò recarmi da solo la stazione e poi potei vedere direttamente con i miei occhi. Il signor Gröning arrivò ed il giovane uomo incominciò a gridare io posso di nuovo vedere e realmente quel velo scomparve dai suoi occhi. Egli mi descrisse che borsa avevo in mano. Poi disse la giusta passando un'automobile e vedo il numero della targa e da solo trovò la strada per la stazione. Tutte le persone lì presenti piansero dalla gioia e dalla commozione. Il divieto di guarire. Le guarigioni avvenivano una dopo l'altra sempre più numerose e sempre più numerose erano le persone che arrivavano. Così non passò molto tempo che anche le autorità locali furono attratte dagli insoliti eventi che succedevano nella Wilhelm's Platz. Alcuni medici influenti si diedero da fare affinché nella cittadina si ponesse fine a quell'andirivieni intorno al Medico dei Miracoli. Erano nemici dichiarati di Bruno Gröning ed impegnarono tutte le loro forze per stroncare la sua attività. Sotto la loro pressione il 3 maggio 1949 la città di Hereford impose a Bruno Gröning il divieto di guarire. In Germania esiste una legge che regola l'attività degli Heilpraktiker naturopati e che stabilisce chi può e chi non può curare. Si accusò Bruno Gröning di aver infranto questa legge e per questo motivo non aveva il diritto a guarire. Fu istituita una commissione investigativa. Si pretese che Bruno Gröning si sottoponesse ad un esame scientifico delle sue capacità guaritrici ma le intenzioni non erano buone né leali. Quando un certo professor Fischer poco tempo dopo cercò un ospedale dove Bruno Gröning dovesse venire clinicamente esaminato visitò anche la clinica di Bielefeld il cui direttore era socio della commissione investigativa di Hereford. Durante la visita del professor Fischer erano presenti anche tutti gli altri signori della suddetta commissione al completo. Il professor Fischer si fece presentare tutti i pazienti sui quali Bruno Gröning avrebbe dovuto dimostrare le sue capacità guaritrici e dovette constatare che si trattava tutti senza eccezione di pazienti terminali nei quali qualsiasi volontà di vivere si era ormai spenta. Era una trappola. Bruno Gröning sarebbe stato così imbrogliato. Uno dei medici coinvolti non fece mistero che il suo scopo dichiarato era quello di silurare Bruno Gröning. Gröning potrà dimostrare ciò che vuole ma il permesso di guarire non gli verrà rilasciato. Un altro dichiarò è un'offesa alla professione medica quella di confrontarsi con Bruno Gröning. Così Bruno Gröning dovette fin dall'inizio affermarsi ostinatamente contro imponenti forze avverse lottò con tutte le sue forze contro il divieto di guarire fece di tutto per poter continuare ad aiutare gli ammalati che si stringevano intorno a lui ma fu tutto inutile il divieto di guarire rimase in vigore alla fine di giugno dovette definitivamente lasciare la città di Hereford tutti gli sforzi fallirono capitolo quarto un esperimento scientifico all'incirca nello stesso periodo tre collaboratori della rivista Revue due giornalisti e il professor Fisher partirono alla volta di Hereford parlarono con le persone guarite e verificarono i loro racconti sorpresi e meravigliati constatarono che effettivamente erano avvenute delle insolite guarigioni la rivista Revue decise allora di finanziare un esame scientifico sul fenomeno Gröning per poter avere poi l'esclusiva delle informazioni nella clinica universitaria del professor von Weizsacher nella città di Heidelberg sarebbero stati studiati i metodi di cura del dottore dei miracoli Bruno Gröning accettò la proposta se gli accertamenti fossero risultati in suo favore gli sarebbe stata rilasciata una perizia positiva questo gli avrebbe spianato la strada per poter poi operare liberamente il 27 luglio del 1949 incominciarono le prove tra i pazienti della clinica universitaria e tra le oltre 80.000 lettere di supplica pervenutegli da Hereford furono scelte le persone sulle quali Bruno Gröning avrebbe dovuto dimostrare le sue capacità guaritrici tutte le persone furono accuratamente esaminate poi le condussero da Gröning che doveva dimostrare ciò di cui era capace i medici furono sempre presenti ed osservarono attentamente cosa succedeva volevano sapere che cosa facesse e come lo facesse furono profondamente impressionati dai risultati le guarigioni avvengono sotto gli occhi dei medici i medici divennero testimoni di come le malattie che loro stessi non riuscivano a guarire semplicemente scomparissero particolarmente impressionati rimasero per le guarigioni dei pazienti della loro clinica che talvolta conoscevano già da anni per esempio il caso della signora Elsay Ost aveva 36 anni e soffriva da 13 anni di una grave malattia all'intestino soffriva di costipazione cronica aveva molti dolori e a volte non andava di corpo anche per ben otto giorni di seguito veniva curata già da molti anni in quella clinica di Heidelberg senza successo dopo che Bruno Gröning si occupò di lei fu nuovamente sana gli esami ai quali fu sottoposta nella clinica lo confermarono i medici si trovarono di fronte ad un enigma un altro caso fu quello del signor Strobel soffriva della sindrome di Bechterew la sua colonna vertebrale era diventata completamente rigida non era più in grado di muovere la testa e aveva dei dolori insopportabili quando camminava o doveva salire le scale anche qui Bruno Gröning parlò con lui e i disturbi scomparvero si sentì molto bene e le difficoltà di deambulazione scomparvero completamente anche lui fu sottoposto a nuovi esami nella clinica e la guarigione fu confermata come Bruno Gröning esercitasse la sua azione sui pazienti e cosa dicesse loro fu del tutto ripreso e registrato nella rivista Revue venne pubblicato qualche brano degli incontri qui sotto riportiamo uno stralcio del colloquio svoltosi tra Bruno Gröning ed il signor Strobe faccia alcuni passi avevo dei dolori nella regione inguinale soprattutto quando salivo le scale praticamente non riuscivo a salire mi faceva molto male più nella parte sinistra che nella destra provi ora a salire le scale Strobe si avvicina alle scale ed improvvisamente salta su e giù per i gradini è felicissimo ora giri la testa prima verso destra e poi verso sinistra scricchiola come se ci fosse dentro della sabbia come si sente adesso? ora mi è più facile girarla lo scricchiolio ha smesso? no scricchiola ancora ci metta la sua mano sopra adesso tolga la mano Strobe continua sempre a muovere la testa Gröning sta diminuendo Strobel sempre muovendo la testa sì va meglio Gröning intanto si occupa di altri pazienti ora è più facile non sento più dolori nemmeno nel fondo schiena tutti i dolori sono scomparsi Gröning invita ancora una volta il signor Strobe a salire le scale e lui saltella leggero sui gradini grazie a tutti 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 grazie a tutti